Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana, in A1, in direzione Bologna. Ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto tra la variante di Valico e Aglio per lavori, uscita consigliata provenendo da Firenze, Badia. Sulla Fipili chiusa la rampa di accesso allo svincolo di Livorno Porto, in entrata in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia chiusi, in entrata e uscita gli svincoli di Pollonica Nord e Gavorrano, in direzione Roma. Sulla statale Trebbis Tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Madonnuccia Poggiolino e Sansepolcro Nord. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!